Buonasera, sono Laura Antichi, vi faccio una proposta, creare una timeline con class tools. Andiamo a scrivere nella casella di ricerca di Google class tools e ci colleghiamo al primo risultato classetool.net. Scegliamo la lingua italiana da subito e andiamo a generatore di cronologia di Wikipedia. La proposta è di realizzare la timeline usando questa applicazione che permette di convertire pagine di Wikipedia in una timeline editabile. Si digita il termine della ricerca, ad esempio qui potrei digitare Dante Alighieri e si attende che venga restituito il risultato aumentato nelle info organizzate in sequenza. Se vedete comparire la lingua inglese potete attendere un attimo che si colleghi alla pagina di Wikipedia e vedete comparire quindi la timeline in lingua anche italiana. Molto interessante perché possiamo possiamo, come vedete, vedere anche più piccolo, più grande, possiamo modificare la timeline. Se siamo registrati in Wikipedia possiamo cambiare qualcosa, cioè possiamo aggiungere del testo, comunque modificare questa linea temporale. E poi possiamo anche condividere la nostra linea temporale che abbiamo creato collegandoci a Wikipedia ottenendo un link con l'indirizzo, un codice di incorporamento, un QR code o scaricando il collegamento web. Link, vedete che mi dà il link, che possiamo poi dare ai nostri studenti, i nostri studenti possono dare a noi. Abbiamo anche un codice da incorporare, la possibilità quindi di aggiungerlo ai nostri blog. E possiamo anche avere un QR code che ci può essere utile da mandare ai nostri studenti, o i nostri studenti possono mandare a noi, questo QR code per collegarsi alla pagina che abbiamo creato con la timeline su un autore o un argomento. Ad esempio, possiamo creare anche un'altra timeline, facciamo ok qui, quindi crea una nuova sequenza temporale, possiamo mettere augmented reality ad esempio, in realtà aumentata, e vediamo quindi quale è il risultato che ci viene dato. Per ottenere il risultato in lingua italiana basta cliccare con il destro del mouse, traduce in italiano, italiano, e vedete che questa timeline viene poi restituita nella lingua italiana, volendo. Ecco, questo è tutto.